La proposta che avevo fatto io all'interno del Movimento 5 Stelle, ne avevamo parlato anche con i nostri parlamentari, ma anche con Luigi Di Maio era proviamo a metterci a un tavolo, naturalmente non si parlava di un'alleanza solamente contro la destra perché non avrebbe avuto senso, non si tratta di un'alleanza solamente per replicare il modello che c'è a livello nazionale in questo momento con il governo, ma si trattava di una eventuale coalizione basata sul programma e sui temi. Ho detto proviamo a metterci a un tavolo, se troviamo almeno 5 punti comuni da poter realizzare nei successivi 5 anni di governo, può essere un'occasione per il Movimento 5 Stelle per portare avanti e realizzare delle battaglie proprie e allo stesso tempo anche per mettersi alla prova e entrare finalmente al governo di una regione. Secondo me è stata un'occasione persa, insomma io continuo a essere convinta di quello che ho sostenuto. Sono contenta da un lato del risultato perché comunque il Presidente Bonaccini ha raccolto negli anni anche alcune nostre proposte e spero si continui in quella direzione. Allo stesso tempo mi dispiace abbiamo perso un'occasione perché potevamo entrare al governo di una regione, oltretutto regione molto importante senza nulla togliere ovviamente alle altre, però l'Emilia Romagna ha un'importanza nello scacchiere nazionale notevole. Il Movimento 5 Stelle sta calando, qual è la sua impressione? Che cosa accadrà nei prossimi mesi? Il Movimento 5 Stelle sta pagando un po' lo scotto di essere arrivato al governo della nazione, a volte fisiologico questo calo, diciamo che sicuramente poi il passaggio tra un'alleanza con il contratto di governo fatto con il centrodestra e il passaggio poi successivo al famoso 8 agosto che ci ha portati a governare assieme al centro-sinistra ha disorientato probabilmente una parte di elettorato perché come si diceva prima è un mondo che si sta comunque polarizzando, poi all'interno di centrodestra e centrosinistra ognuno chiaramente mantiene come forza politica la propria identità. Nei giorni scorsi ho letto un articolo di un vostro collega di Marco Travaglio che secondo me da buon conoscitore del mondo non solo politico ma anche all'interno del Movimento ha parlato di due termini che sono fondamentali, cioè il concetto di identità e di intransigenza. Cioè che cosa vuol dire essere intransigenti? Personalmente credo che l'intransigenza possa servire nel momento in cui ci sono delle battaglie giuste da portare avanti a favore dei cittadini. L'intransigenza non è non parliamo con nessuno, non ci alleiamo con nessuno. L'identità sì forse noi la dobbiamo un po' ritrovare, io ne sono convinta perché dobbiamo capire all'interno appunto di un elettorato che comunque continua a ragionare in termini di destra e di sinistra, la terza via ha sfondato ma non riesce a mantenere in questo momento la strada e dobbiamo capire vinte tante battaglie che ci accomunavano e accomunavano i componenti del Movimento che hanno fatto anche nascere dal Movimento che venivano magari dalla vecchia destra e dalla vecchia sinistra, scontenti di quella politica a chi siamo forse più affini in termini di grandi tematiche, all'interno di ovviamente anche non ideologie ma idee all'interno di idee di società e di vita politica e civile. Le prossime regionali vedranno nel Movimento 5 Stelle, nell'elettorato del Movimento 5 Stelle una chiave fondamentale per determinare la vittoria nelle sei regioni che andranno al voto. Ecco, c'è molta confusione nel Movimento 5 Stelle e a livello territoriale dove si sono svolte le prime assemblee per decidere se allearsi o meno con il centrosinistra o con il PD non è finita bene, nel senso che chi del livello nazionale spingeva per l'alleanza è stato proprio sconfessato. Ma avete tutti questi faci norosi a livello territoriale voi? Beh, chiamiamola passione politica. Beh, io personalmente ho condiviso il post che ha fatto Roberto Fico perché condivido anche la sua posizione. Poi non mi permetto di giudicare le riunioni locali perché, come si diceva prima, ogni regione è diversa e quindi è giusto anche che i territori decidano in maniera autonoma. È chiaro che, come era stato anche paventato dalla mia collega da Silvia Piccinini in Emilia Romagna, abbiamo uno strumento oggettivo per decidere eventualmente, per fare una consultazione che è Rousseau e quindi eventualmente, se si volesse veramente consultare la base in maniera precisa e contando i voti, potrebbe esserci anche quello strumento lì. Però, ripeto, non entro nelle dinamiche delle altre regioni e degli altri territori perché sono realtà diverse tra di loro. Però da politica una consultazione sulla piattaforma Rousseau, in questo caso, visto che sono sei regioni importanti, milioni di elettori, dovrebbe essere una consultazione a livello nazionale, non divisa nei vari territori. Beh, rispetto alle singole dinamiche e alle eventualità di coalizioni o meno, credo che vadano consultate gli iscritti delle singole regioni. Insomma, per l'Umbria è stata fatta una consultazione nazionale, però abbiamo visto che poi in realtà il matrimonio non è piaciuto agli elettori dell'Umbria. Secondo me è anche lì un errore strategico forse è stato fatto. Si è andata a fare una coalizione un po' all'ultimo momento, sapendo benissimo che la situazione del Partito Democratico in Umbria non era, insomma, rosea e magari non lo si è fatto in Emilia Romagna, quando tutto sommato, a netto di tutte le critiche che possiamo aver fatto, giustamente da opposizione alla giunta Bonaccini, non possiamo certo dire, insomma, che la nostra regione versi in condizioni difficili o che comunque ci siano stati degli scandali come sono successi in Umbria. Io trovo un po' assurdo che il Ministro degli Esteri, già capo politico del Movimento Luigi Di Maio, ieri in diretta a Facebook abbia dato appuntamento ai militanti del Movimento a scendere in piazza il prossimo 15 febbraio davanti al Senato per protestare, per contrastare quanti nel governo di cui lui fa parte, perché è un Ministro degli Esteri, c'è qualcuno che vuole ritornare al vecchio sistema dei vitalizi, al vecchio andazzo, non è incredibile che un Ministro chiami alla rivolta contro il governo di cui fa parte? Sì e no, quello che le dicevo prima, cioè quando si parla di intransigenza, se lo si fa sui temi mi sembra un atto anche di coraggio che un Ministro dica, no, quello che qualcuno all'interno della compagine di governo vuole non mi trova d'accordo, lo trovo un'ingiustizia contro i cittadini, quindi da questo punto di vista è, diciamo così, istituzionalmente anomalo, però se si guarda poi nei contenuti, si guardano i fatti, credo che abbia fatto un appello più che giusto, sicuramente le dinamiche non sono semplici, c'è qualcuno all'interno della maggioranza, insomma diciamo che quello che ha fatto Renzi pochi giorni dopo la formazione del governo, cioè creare la sua, aspettare che nascesse il governo e poi creare la sua forza politica per diciamo tenere un po' in pugno anche i numeri della maggioranza, sinceramente la trovo una scorrettezza istituzionale, non credo che abbia agito nell'interesse dei cittadini italiani. Ripeto, le dinamiche non sono semplici a detta, dei nostri parlamentari sono sincera, mi stanno in molti dicendo che lavorano meglio con i colleghi del centro-sinistra che con quelli del centro-destra, quindi poi… Anche io penso che la parte dell'elettorato del Movimento 5 Stelle sia già transitato nelle file della Lega, quindi… Sì, diciamo che, ma non solo l'elettorato, parlo anche proprio di parlamentari, insomma dicono che comunque lavorano in maniera più armoniosa, queste però insomma sono le voci che ci arrivano. Per quanto riguarda invece la competizione che si è tenuta in Emilia-Romagna, conoscendo un po' i miei corregionali, io sono romagnola e vi faccio un appunto, dite Emilia-Romagna, cortesemente perché si parla sempre di Emilia e io da romagnola dipendo, in maniera non campanilista, però dipendo la Romagna. Sono due territori di Sì, sono non distanti, ma un po' di… È perché ci sentiamo sempre i fratelli minori, però adesso a parte gli scherzi, conoscendo un po' i miei corregionali, forse il centro-destra ha peccato proprio nel voler creare un territorio di scontro dicendo noi siamo gli anti-PD, gli anti-basta-PD, mentre invece credo che la scelta che ha fatto Bonaccini, al netto delle difficoltà che nessuno nega all'interno del Partito Democratico, sia stata quella di avere l'immagine di un Presidente senza simboli a voler significare io voglio essere il Presidente di tutti. L'idea, il messaggio che è passato in Emilia-Romagna rispetto al centro-destra è noi saremo solo i rappresentanti del centro-destra. E conoscendo un po' l'orgoglio Emiliano-Romagnolo credo che abbia creato insomma quelle dinamiche per cui hanno in parte aiutato anche Bonaccini a vincere. Continuano i femminicidi, cioè continuano a registrarsi tante violenze nei confronti delle donne. Io penso che su questo tema ci sia un'unità, molte volte è colpa, anzi la stragrande maggioranza è colpa nostra, è colpa degli uomini. Ecco, un qualcosa che si può continuare a fare per incidere sempre più contro la violenza alle donne. Beh, intanto il Codice Rosso ha fatto tanto. Si registrano anche più casi perché grazie a Dio sono aumentate le denunce. Perché in realtà il sommerso era tanto. Quindi è ovvio che anche uno solo è uno di troppo. Però intanto il fatto che si denunci di più è già un segnale. Bisogna agire sulla cultura. Sulla cultura a partire da quando si è piccoli. Io un bimbo di un anno e mezzo già a quell'età gli devi insegnare. Ma forse ancora quando noi donne ce li abbiamo in grembo dobbiamo insegnare ai nostri figli, maschi o femmine, che siano il rispetto reciproco. Viviamo in una società dove certi ruoli sono superati. Ancora forse viviamo un momento di cambiamento dove vecchie dinamiche sociali difficilmente vengono accettate dal mondo maschile che ancora alcune donne subiscono. Le donne devono assolutamente imparare a rivendicare la propria autonomia, la propria libertà. L'uomo deve imparare in alcuni casi a capire e a rispettare questa autonomia e questa libertà della donna nel rispetto reciproco perché solo nel rispetto ci può essere anche amore perché ricordiamo che poi la maggior parte dei femminicidi avvengono in famiglia. Sicuramente lo Stato, le leggi, le istituzioni possono aiutare la donna ad esempio nella maternità, nel rendersi autonoma ed indipendente nel gestire anche la famiglia e il lavoro.